La serata benedicta di quest'anno è stata dedicata alla figura del prete partigiano Bartolomeo Ferraris, meglio conosciuto come Don Berto. Si è svolta il 22 marzo ad Alessandria ed è stata organizzata dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e dall'Associazione Memoria della Benedicta, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Nell'incontro è stato proiettato il documentario Don Berto, Un uomo o un prete di Maurizio Orlandi e Giampiero Armano. Racconta le scelte difficili che Ferraris ha compiuto come partigiano e sacerdote durante la Resistenza Ligure piemontese.